ciao papà lo sai ero assolutamente certo che sarebbe finita in questo modo cavoli ma perché proprio noi non c'entriamo niente in questa storia ha detto che ci andrà a mio fratello basta lamentarsi sapete penso che vi farà bene partire per questo viaggio dopo anni di ozio totale andrete voi due insieme a carot sarà un'esperienza importante scusami ma io ho un appuntamento stasera non lo rimanderai ma non pensi alla società che ne sarà della capsula incorporation tua madre se la caverà benissimo da sola vedrai sì d'accordo ma come la mettiamo con la mamma sai vegeta io non credo che vorrà lasciar partire il suo adorato bambino tiki è d'accordo con me god ma non è possibile grazie Grazie.